Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Siamo di fronte ad una frase del Vangelo di Giovanni, in cui Pietro si affida a Cristo. Dopo aver sentito un discorso molto duro di Gesù, parole difficili da capire sul mistero dell'Eucaristia, alla fine i discepoli sono un po' smarriti, ma Pietro risponde a nome di tutti dove possiamo andare. Solo tu ci hai dato speranza, solo in te troviamo un motivo valido per capire bene la nostra esistenza. Anche su questa frase ci siamo confrontati con gli allumi dell'ITAS di Piacenza, a cui ora do la parola a Andrea e Giacomo. In questa frase si riconosce subito la paura di Pietro di perdere la guida di Gesù, si vede proprio una paura. Lui successivamente però gli dimostra la sua fiducia, ovvero senza di lui non sanno dove andare, non sanno fare nulla, sono persi senza la sua presenza. E quindi queste parole ci danno speranza dopo la morte, perché in poche parole il sentimento di paura è risolto dalla sua presenza, dalla sua guida.